Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana Ah che bello Questa maniana è presto, sono le 10 meno un quarto qua ragazzi C'è un po' di ventarello pieno di selfisti, vediamo se si vedono là in fondo Sono con la tavola Dato che ci sono le onde Anche oggi è una bellissima giornata ragazzi, guardate, veramente Vediamo Mi sa che è diminuita la gente, a parte che è presto però, un po' è partita Quindi Si torna a scuola Se non sono già tornati Sì sicuramente Sicuramente Oh la la Vediamo quest'altro pezzo di spiaggia che c'è Questa mattina Selfisti a gogò proprio pieno al mare, non so se li vedete Le teste là sotto Comunque Che coturia ragazzi Statistico Le tue Questa C'è una giornata veramente Spettacolare Veramente 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 La Ambe La Puede Il Vi Il 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 eccoci qua ragazzi vado a casa e monto sto video e ve lo mando las palmeras va bene ragazzi vi auguro un buon inizio settimana a tutti e grazie a quelle che mi seguono e a quelle che non mi seguono ugualmente iscrivetevi mettete un like e grazie grazie